Turismo in città, sottotono le festività, noi albergatori, molte disdette e aprile impicchiate. Il tutto esaurito nella nostra città per il periodo pasquale non c'è stato, lo comunica non senza rammarico Giuseppe Rosano, presidente di Noi albergatori Siracusa, a cui aderisce il 90% degli alberghi siracusani. Molte le camere rimaste libere ovunque, negli alberghi, nelle strutture extraalberghiere, continua Rosano, e ciò ha determinato una Pasqua sottotono, mentre lo scorso anno in questo periodo le prenotazioni erano di gran lunga superiori, così come i prenotamenti di italiani e stranieri assommati. Non solo, pare che anche i ristoranti nel weekend di Pasqua non abbiano avuto tutti i tavoli occupati, precise il presidente di Noi albergatori Siracusa, e ciò confermerebbe che anche il turismo di prossimità non sia stato così esaltante come lo scorso anno. Scontento anche da parte dei commercianti, le prenotazioni che a inizio anno erano molto buone e negli ultimi giorni di marzo hanno subito molte disdette, le previsioni per il mese di aprile sono assai scarse e impicchiate. Eppure per il mercato nazionale le condizioni meteorologiche confermavano l'Italia divisa in due, al nord e al centro si anticipavano a bassa pressione con piogge anche abbondanti, mentre al sud in particolare nella nostra isola e quindi pure a Siracusa erano previste giornate di sole, e temperature sopra i 25 gradi. In questo grigiore il presidente di Noi albergatori Siracusa, Giuseppe Rosano, convocherà presto un consiglio direttivo per analizzare i motivi dell'improvvisa contrazione dei flussi turistici nazionali e anche seppure di minore consistenza di quelli stranieri. Certo, analizza Giuseppe Rosano, un ruolo avranno sicuramente avuto le tensioni internazionali con eventi di una guerra globale capace di coinvolgere in un conflitto armato direttamente all'Europa intera, avranno influito anche le recenti atti di terrorismo in Russia e le minacce di una nuova forma di terrorismo fai da te, più terra-terra e inoltre si esame nel caro costo del volo aereo per il periodo pasquale. Le compagnie aeree da Roma o Milano per la Sicilia hanno proposto tariffe proibitive, obbligando di fatto molti viaggiatori a restare a casa, a causa anche dell'aumento del costo della vita. Conseguentemente, del tutto evidente, la preoccupazione degli albergatori siracusani è che in questi giorni sono concentrati a rivedere le ottimistiche previsioni di realizzare una stagione turistica esaltante, tesa a consolidare un numero di viaggiatore più numeroso rispetto al 2023, precisa Giuseppe Rosano. Hanno record che ha superato il milione di presenze nella nostra città. In questo contesto servirebbe una chiamata all'azione anche dell'amministrazione comunale che non può restare seduta su un divano, conclude il Presidente di noi albergatori siracusa, compiacersi soltanto di aver aumentato in maniera spudorata l'imposta di soggiorno a carico dei turisti che scelgono di soggiornare nella nostra città, senza peraltro migliorare gli endemici e carenti servizi e offrendo loro una destinazione turistica maglianera per qualità di vita.